... … Ma io avviso il fratto del coleta… … … … … … Ma è una stessa prima frase! Ma è un po' che ci ha fatto, Anci, ho preso! O è da dove sa che vada, Anci, si è un po' che ci ha fatto, Anci, da questa donna! Ma perché? Ma è una ragazzina che ci ha fatto, è un po' che c'è, ma è una ragazzina che ci ha fatto, ma è un po' che c'è, no?